Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha portato in Europa l'appello antirazzista lanciato insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella che ha già visto migliaia di persone, cittadini, associazioni e sindaci scendere in piazza nel capoluogo toscano. Lo ha fatto nel corso della seduta del Comitato delle Regioni a Bruxelles e le prime adesioni sono già arrivate dal sindaco di Siviglia e dal presidente della delegazione francese al Comitato delle Regioni. All'Europa Rossi ha rivolto un appello preciso. Chiedo che si faccia un'assemblea plenaria del Comitato delle Regioni dedicata ai temi della lotta al razzismo e dei valori di umanità e di ragione che sono fondanti per l'Europa. Penso che bisogna reagire, che stare silenti significa aprire la strada a questa ondata sempre più forte che strumentalizza le paure, le ansie ma anche il disagio reale ma anche i problemi reali dei cittadini. Nel corso della giornata a Bruxelles, Rossi ha anche intervenuto sui temi dell'ambiente e della gestione virtuosa dei rifiuti portando l'esperienza toscana in una tavola rotonda dedicata alla transizione verso l'economia circolare.